Sì, un po' di fotografia, una sprocessione, si attirano subito, si fanno bella. Tardiamo dentro a saldarci un momento. Ehi, un momento, un ultimo settimo, eh? Un altro video tutto in cupido. Treciti, cazzo! Questo colpo mi lascia speciare. Allora, fa' come, va! Ehi, ma fin tu vuoi stare con la compagnia, le vie, tutte della chiesa. Maria! Ciao! Tu stas am contos? Sì, signor. Sì, signor. Sì, signor. E se no, qui si bruzi pure, eh? No, non, non sono ok. Sì, signor. Che non ti facerai, se è? Sì, signor. Sì, signor. Sì, signor. Sì, signor. Già, ma si, tu mi vanno a salmi in via di Enova ti ha più scoffiato. Eh, vai, vuole, va. sta fuori tu sei in tutta Genova questa maletta Maria che fa su questa scuola metti la zebra non mangia o Maria e la inchia secondo la scuola o Maria la revisione stava guarda anche il Ferreggiano il Ferreggiano il Ferreggiano si si sta fursuosa no? no tu hai sentito un secondo te no? vedi che è bello che è venuto si è riuscito bene si si ma è bravo ragazzi permesso maria maria renata vai dentro era contento perché ho detto oggi riesco a portarlo è stato mi figlio Simodoro si 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 è da me che questo va a tagliare questo è con la tassi con la pezzabrinza mi dirà un pò un casino si ha detto il salto si, è stato dato non già le stava sul ecco qua si me lo vuole il profumo porti qui dentro un inco no 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 ora si è serata questa settimana si si sei mi staccato lì il suo granulato allora niente ben dentro dai sentirevi se partai dentro il giorno domani dai mercutti ben dentro il cane già Paolo 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 ah c'è fuori io non chiami ma non si fa me ma non si fa me ma si si bene e vede ma non 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 che non 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 e non vale allora potevano stare anche là E' un po' buono. Io ho sempre detto che l'alperino mi sa me la chiede a Lenzo con pane. Si, mi sa me la chiede a Lenzo con pane. Questa è un misto di vecchia o di donna? Ma come? Aspetta qui. Oh, portai dentro la sartina che com'è ci mangiamo? Las porti dentro a netta. Maspelino. Calma, calma.